Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, domani mattina sarà a Campobasso. Una visita di poco più di due ore, quella prevista dal programma ufficiale. L'arrivo in elicottero davanti allo stadio Selvapiana alle 10.30, accolto dalle autorità locali. Parteciperà all'università l'inaugurazione del centro di ricerca sulle aree interne e gli appennini dell'Ateneo. Alle 11 poi la visita al Museo Sannitico nel centro storico cittadino. Il Comitato Unitario per la Salvaguardia della Corte d'Appello di Campobasso ha atteso l'arrivo del Capo dello Stato per sottoporre alla sua attenzione il rischio concreto della soppressione del presidio giudiziario molisano. Il sindaco di Campobasso Antonio Battista in rappresentanza del Comitato ha inviato al Quirinale un documento con un accorato appello in difesa delle nostre istituzioni giudiziarie e della giustizia di prossimità che il primo cittadino richiamerà nel suo intervento davanti al Presidente della Repubblica. documento cui sono legate centinaia di adesioni dall'Italia e dall'estero. Al Comitato Unitario hanno aderito ufficialmente 101 comuni molisani, la regione e le due province, diversi altri enti, ordini professionali, sindacati dei lavoratori e associazioni imprenditoriali e professionali, gruppi politici, movimenti e associazioni della società civile, mezzi di informazione, televisioni, radio, giornali, 34 associazioni di italiani e molisani nel mondo.